Il Comune di Viareggio ha votato il dissesto finanziario, 50 milioni, e si è dissolto. Un buco insostenibile per una città di 60 mila abitanti. E così, dopo il commissariamento del vecchio sindaco, precedente sindaco di centrodestra, Lunardini, ora è un sindaco di centrosinistra, Betti appunto, a rischiare il commissariamento. Con una differenza sostanziale, però. Betti, appena scoperto il buco, ha dato fuoco alle polveri e il Comune ha cominciato a bruciare. Fuori gli assessori, dirigenti di fondazioni pubbliche, di società partecipate, di società monopolizzate. Però fuori ha dovuto andarci anche lui, secondo quanto richiesto dal suo partito di provenienza, il Partito Democratico, se vuole tentare, hanno detto, di ridare un governo alla città. E questo lo vedremo nelle prossime settimane. Intanto, le vicende di Viareggio dicono anche altre cose. Dicono che casi simili ce ne sono in giro, nella nostra provincia e in Toscana, e vedremo come saranno trattati. Dicono soprattutto che la trasparenza, pretesa da Betti giustamente, è un varco verso il futuro e insieme un diritto dei cittadini. E infine si capisce molto bene che Betti si è messo in contrasto con un sistema politico fondato su logiche spartitorie e che ha prodotto poi alla fine quel parassitismo di enti inutili e incompetenti che ha costituito un costo assai grave per la comunità.